È la prima cosa che vedi al mattino, è l'ultima che vedi la sera. Ti fa perdere la pazienza, ti fa ritrovare la calma, ti aiuta a ricordare, ti aiuta a dimenticare, ti collega col mondo. È l'unica cosa che ti appartiene che hai sempre a portata di mano. Ecco perché non hai bisogno di un telefono da capire, ma di un telefono che capisca te, e te, e te. E noi siamo HTC. Grazie a tutti.